mercadanti attacca da destra a sinistra mentre il pro con legno con l'egnese da sinistra verso destra gran caldo questa questo martedì pomeriggio e mai col primo minuto al 49esimo secondo quattro lorenzo la parola si apre un'occhiata la nostra fantastica panchina soffie nantonio cristiani dirigente e il nostro mister e il nostro guardia linee simone zingaro quindi al 49esimo secondo porta in vantaggio la nostra squadra lorenzo